Si parte dal mare, dalle zone balneari di Marina di Palma e Capreria fino ad arrivare a Ciotta. Sono queste le contrade dove entreranno in azione le ruspe per demolire 15 immobili realizzati senza licenza edilizia, costruiti a meno di 150 metri dalla battigia a Palma di Montechiaro, in zone con vincolo ad inedificabilità assoluta. I mezzi meccanici della ditta che ha vinto l'appalto e che per questione di sicurezza non viene indicata per evitare quanto accaduto a Licata, dove il proprietario dell'impresa che sta demolendo gli immobili abusivi è stato minacciato ed aveva anche pensato di rinunciare all'appalto, sono già pronti. La ditta ha fatto un sopralluogo, dice il commissario straordinario Antonino Lamattina, che amministra il comune dallo scorso mese di febbraio, da quando cioè si è dimesso il sindaco Pasquale Amato. La programmazione è stata avviata con la prefettura, con la procura e con l'impresa. La prossima settimana abbatteremo il prossimo edificio, il primo, e poi gli altri. Non possiamo indicare per motivi ovvi da dove inizieremo, dice il commissario, ma in elenco ci sono 15 immobili costruiti entro i 150 metri dal mare, dove non ci sono ricorsi e non c'è possibilità di sanarli. Abbiamo preso accordi con la ditta che ha accettato. Il commissario, che già nel 2005 aveva guidato il comune di Palma per un periodo di transizione, aggiunge io credo nelle istituzioni, faccio il mio dovere, io non ho nulla contro i cittadini palmesi, anzi io amo questa terra. A chi suggerisce al commissario di fermare le ruspe, perché a livello regionale c'è un ragionamento sulla questione abusivismo, il dottor Lamattina risponde io applico la legge e la legge è questa. C'è un protocollo di intesa con la procura e poi bisogna finirla con l'abusivismo. Io ho approvato il piano regolatore a Palma nel 2005, quando esistevano un mare di edifici abusivi. E il sindaco di allora mi disse, lei mi ha strappato, mi ha scippato il piano regolatore e addirittura ha fatto ricorso al TAR che ha perso. Allora il problema è questo, l'abusivismo edilizio va stroncato, perché quando succedono le tragedie, aggiunge la mattina, allora praticamente poi piangiamo tutti, poi piangiamo i nostri morti, le nostre case che crollano. Allora si deve stroncare il concetto di abusivismo edilizio, non è possibile che dalla sera alla mattina si continui a costruire senza regole, dobbiamo rientrare nel mondo della legalità. Noi ci riempiamo la bocca con la parola legalità, non si può costruire senza concessione, c'è una città devastata e imbruttita e poi se la prendono col commissario e chiamandolo rullo compressore, io applico la legge e conclude la mattina, potrei venire qui, firmare quattro carte e tornarmene a Palermo. Invece faccio il mio dovere e per fare il mio dovere vengo continuamente attaccato.